Pio round il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 AdS up and running AdS up and running AdS line of fire AdS line of fire Sì 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 Qu'è l'intesa con la botella? Voi trovare una bomba. Voi sap sapere. Voi trovare la bomba? Allora, non la botella... Va bene. Scusate ora vai che dire che ti hanno freddo la pica di Sofia che ti hanno freddo la pica di Sofia la taina No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Non ci si è piaciuto No, non ci si è piaciuto Verticale? Certamente verticale Non ci sono ancora in gioco 3-3 LMS 7-3 RQ 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 Vissi patatevi Ok ho il tamo buone Kanno po' ciappini Sì, vediamo di un'intervato 5 secondi time let it reach ok 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 ciao I'm ready to kill you. Be advised, Op4 has found a bomb Ten seconds to insertion Five seconds to insertion Bomb located by Op4 You have been spotted by hostiles, fall back Overwatch 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 Perimeter is active ... ... ... ... ... Fai un po' fin, non è un po' finito. Poi, vi sul riso. Il riso d'accordo a l'argettato. Uno è il pietro, il riso è il connesso. che cosa che ti che cosa che ti non è il conjonitore, ho fatto un po' di arrabbiare 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 Sì, non è vero, non è vero, non è vero. Quanto lo vantaggio? Quanto lo vantaggio? Quanto lo vantaggio? . . . .I've got to work hard to do that, what a zero. . . . .I've got a fire like this. . . . .I've got a zero, that's what we've sent. We don't need to be done here. 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 Sledge ha fatto il diffusore, mi ha detto che abbiamo fatto il sledgero, questo è un'altra parte. E' un'altra parte. Guarda. Guarda, guarda. No, non ci sono. 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 no, vieni amore mi è cominciato e si mi ha scusato tu non mi ha scusato fai scusato e si sono cercato ho amici ricordati il mio massimo quello che face A questo bel giro dell'esercizio è di nelle due Il giro è vero che si è rapida Ma dovrò fare circa 15 minuta Deve viene lì,ough 10 minuta Nessizia, Icon mi torrò a dire Non tu stai capo il giallo è andato 5 secondi before You're mission is to locate and defuse a bomb I'm going to kill you I'm not going to kill you No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Grazie a tutti. Questo è il caso. Questo è un caso. Quindi si è un caso. Non si sa' un caso. Non è una strada di roba Non è una strada di roba Chiederti Facciamo una strada di roba Sì, non lo so Nei, non lo so, non lo so Io ho bisogno di usare la strada di roba Noi, non lo so si trovi una bomba maestro mi ha fatto ti mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto Cosa, non ho fatto? 5 secondi Ah, non lo so. Tu hai trovato una bomba, facci il modo in un'invito e amuse. Non lo so, non lo so. 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 Ah, qual can I? Lo so, we'll do it in a quarter- LEGO. Ti era cus Sylis? Mi a lo so. Mi a lo so. Mi a lo so. Mi a lo so. Mi a lo... Mi tic, tu lanau. Lo so. Se vell gente. No, no, no... Sì? Sì... 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 Hai pai pepe, bandido? Come si che sono a toccare, ma non è così? Sì, vabbè, è morto. Hai pai pepe... Oh, è stato pai... Sì, sono stato un po' di là Voi che non si sono andati Voi? 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 . . . . . . . . il team sono mi sono l'escrizione si 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 ci non si no 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 si no non no 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 Non è vero, non è vero. C'è un'altra cosa? Oh, wow, c'è un'altra cosa? Non c'è un'altra cosa? C'è un'altra cosa? non ci sono le catture non ci sono le catture non ci sono i ricordi non ci sono i ricordi C'è l'asmodo? C'è l'asmodo? C'è l'asmodo? C'è l'asmodo? C'è l'asmodo? T'è l'asmodo? E t'ajunvolo? C'è l'asmodo? L'asmodo? Ate la note qua . Noi, non è vero, non è vero. No, 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 no. e' stato un po' di più e' stato un po' di più non è stato un po' di più Vieni accettare al punto Cosa ta toccata! Cosa? Cosa c'è un po' di non? Grazie a tutti. 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 a tutti.